Come è la figlia di Simone Lecca? Poi certamente questo non toglie delle piccole manchevolezze e il fatto che comunque un padre avrebbe dovuto occuparsi della figlia in una maniera sicuramente più adeguata e non lasciarla abbandonata in qualche modo a se stesso. Però era anche giusto tirarla fuori da quel posto orribile, indecente, dove era stata tenuta. Una cosa veramente scandalosa e oggi come oggi è insentibile che nel nostro paese avvengano ancora cose di questo genere.